Come ho anticipato prima ci sono alcune regioni che hanno uno screening allargato e tra queste la capostipite è stata la Toscana che è iniziato già molti anni fa come tra poco ci racconterà la dottoressa Donati con un primo progetto poi man mano allargandolo fino ad arrivare a una situazione attuale dove diciamo con più di dieci anni di lavoro alle spalle sono riusciti a organizzarsi molto bene dove il quadro descritto dal professor Cerone è diciamo credo la realtà e quindi con uno screening su diverse malattie poi anche tutto un percorso per seguire il paziente però nel dettaglio prego dottoressa Donati. Grazie vi racconto un pochino quello che è stato il nostro percorso dunque alla fine degli anni 90 lo sviluppo tecnologico in particolare la disponibilità di un'apparecchiatura che è la massa tandem e lo sviluppo di nuove terapie specifiche per malattie metaboliche con miglioramento del trattamento a breve a lungo termine hanno portato naturalmente a cambiare il panorama dello screening neonatale da un spot quindi da una goccia di sangue un test una malattia siamo passati appunto attraverso la massa tandem a uno spot un test e tante malattie screenabili e con possibilità vedremo poi future di ulteriori applicazioni e in Toscana come eravamo noi alla fine degli anni 90 inizi 2000 noi in Toscana avevamo tre centri screening neonatali e una sezione di malattie metaboliche abbastanza articolata con grossa esperienza clinica ormai pluridecennale con attività di screening neonatale per Firenze Prato Pistoia e con un laboratorio di biochimica e anche un laboratorio di biologia molecolare tutti all'interno della stessa sezione e tramite una donazione perché sappiamo che nelle malattie rare è molto importante il ruolo delle associazioni e anche i contributi che vengono sia per la ricerca che per le apparecchiature abbiamo ottenuto una massa tandem che però di una Ferrari noi non ce ne facevamo proprio niente quindi insieme alla Ferrari noi abbiamo comprato anche Schumacher cioè il dottor Lamarca che è il nostro chimico che nell'ambito di quella che era la sezione ha rappresentato un elemento molto importante per per l'avvio di questa attività quindi da un progetto pilota che si è avviato nel gennaio del 2001 siamo poi arrivati ad una delibera regionale dopo uno screening di circa 50 mila neonati una delibera regionale con avvio di attività e a questo punto unificazione di tutta la Toscana con un unico centro screening per malattie metaboliche uno screening allargato e un bacino di utenza di circa 33 mila neonati l'anno e a noi si è poi e poi afferito in prima istanza l'asluno umbra di città di castello e dal gennaio del 2006 e poi dal primo gennaio del 2010 tutta l'umbria con un bacino di circa 42 mila 43 mila neonati l'anno la scelta del pannello innanzitutto lo screening neonatale allargato siccome prevede una diagnosi di malattie che possono avere un esordio molto acuto deve prevedere una raccolta di un campione ematico molto precoce quindi possibilmente in terza dalla quarantottesima alla settantaduesima ora abbiamo scelto un pannello di 40 malattie nell'ambito dell'aminoacidopatia e difetti del ciclo dell'uria organica aciduria e difetti della beta ossidazione questo secondo il modello statunitense dell'american college medical genetics tenendo e questo perché perché volevamo anche avere un'epidemiologia italiana e poi vedremo che abbiamo avuto delle sorprese partendo anche da quella che era la nostra esperienza la nostra realtà toscana che ci permetteva di utilizzare un pannello così allargato e questa è l'esperienza che è di circa 300 mila neonati e come vedete noi abbiamo un'incidenza di circa un neonato affetto ogni 1800 IV inclusa la fenilchituncelli e il gruppo delle iperfenilalanine mie quelle malattie sottolineate in rosso sono tutte malattie estremamente importanti che danno luogo a scompenso metabolico nei primi giorni o nei primi mesi di vita e molto spesso causa di exitus o di danno neurologico ma una sorpresa è venuta dalla diagnosi dei difetti della beta ossidazione ben 22 difetti e sono patologie nelle quali molto spesso la diagnosi consente una terapia esclusivamente dietetica come per esempio una riduzione dei tempi di digiuno e in particolare il deficit di medium chain al circo ad idrogenasi con 10 ben 10 neonati diagnosticati affetti con un'epidemiologia sovrapponibile all'epidemiologia australiana tutti i neonati messi a trattamento dietetico non hanno presentato alcun segno clinico mentre come storia naturale questa è una malattia molto importante molto spesso non diagnosticata molto che spesso causa di coma e esiti neurologici ma altra sorpresa sull'epidemiologia toscana è dovuta alla diagnosi della metilmalonica aciduria cobalamin c che è un difetto metabolico causa di una encefalopatia che è vitamina b12 sensibile e nella area toscana ed umbra l'incidenza è di un neonato affetto ogni 28.000 come vedete vi è una differenza molto grossa rispetto a quella che è l'epidemiologia statunitense dove il la incidenza è inferiore di una 100.000 quindi possiamo gli riassunti ecco perché c'è praticamente il vostro lavoro in questi anni su 300.000 bambini ha mostrato che queste malattie sono meno rare meno rare di quanto in realtà la assolutamente diciamo i dati finora sicuramente molti pazienti non hanno la diagnosi corretta quindi muoiono senza avere una diagnosi e d'altra parte questa era anche quella la nostra esperienza della clinica di pazienti con fratellini magari che avevano avuto un decesso da causa ignota e qui si vede bene l'importanza di una diagnosi precoce nella metilmalonica cblc in blu i pazienti diagnosticati nel periodo 2007 2010 vediamo che sono tutti hanno uno sviluppo psicomotorio normale purtroppo la maculopatia non è prevenuta dalla diagnosi precoce a fronte però di gravi manifestazioni neurologiche nei casi che sono afferiti da altre regioni con tutti ritardo coma due pazienti addirittura deceduti per sindrome emolitica oremica nel periodo neonatale quindi importantissima la diagnosi precoce di questi pazienti e altra patologia in cui si è resa evidenza come la diagnosi precoce modifica la storia naturale la glutarica aciduria tipo primo che è una patologia a causa di un'encefalopatia con macro carnea e un'encefalopatia spastico distonica questo era un bambino che era deceduto aveva avuto la diagnosi corretta 23 mesi e poi deceduto a circa due anni e questo invece un nostro bambino diagnosticato con screening voi vedete un bellissimo bambino con una dieta banalissima e con la supplementazione in carnitina e della vitamina della riboflavina ma quello che è già stato detto in precedenza è che lo screening perché molto spesso c'è una distorsione dell'aspetto dello screening neonatale allargato non è la macchina che fa la diagnosi ma alla diagnosi è importante un percorso di rapida presa in carico del paziente il team clinico che interpreta i risultati che decide come gestire il paziente ricovero immediato l'importanza di una rete regionale o estra regione come nel caso appunto con con l'umbria e fondamentale è la diagnosi di conferma quindi ci deve essere un laboratorio che è in grado di prendere 24 ore su 24 carico dei campioni biologici per dare delle risposte non si può pensare ad uno screening che fa diagnosi e poi il paziente siccome è il fine settimana lo vediamo dopo 48 ore perché combattiamo contro il tempo non è così tutto bello perché in questo periodo abbiamo avuto anche dei falsi negativi però l'importanza di avere uno screening per un bacino di utenza ampio consente anche di fare dei correttivi abbiamo avuto due falsi negativi come d'altra parte riportato letteratura per tirosinemia tipo primo e metilmalonico cobalamin c e l'avere a disposizione un laboratorio ultra specialistico ha consentito di mettere appunto un dosaggio di un marker ottimale al posto della tirosina che invece non è un marker ottimale che è il succinilacetone quindi tutti i neonati attualmente al momento dello screening neonatale viene dosato il succinilacetone e sempre l'importanza del laboratorio anche per un altro marker che è la propionilcarnitina che se noi abbassiamo troppo il cut off per non perdere i pazienti facciamo un numero notevole di richiami quindi abbiamo stato messo a punto la determinazione dell'acido libero con second tier test in caso di cut off basso ma non richiamiamo in quel caso il paziente a meno che non sia dimostrata la presenza di acido libero aumentato ma naturalmente dobbiamo andare al passo dei tempi e altre patologie sono diventate suscettibili di terapia quindi un grande gruppo è quello delle malattie lisosomiali per le quali ormai da alcuni anni si è resa disponibile la terapia enzimatica sostitutiva quindi presso il nostro laboratorio sono stati messi a punto i metodi di dosaggio su spot di sangue e quindi possiamo pensare ad un futuro che è quello appunto di uno screening neonatale anche per alcune malattie lisosomiali come progetto il pilota e qui c'era un filmino ma per motivi di tempo non lo mandiamo dove si vede un bambino affetto da malattia di pompe che nel quale la diagnosi è stata posta a pochissimi giorni di vita e raggiunge la deambulazione autonoma all'età che solitamente i bambini vanno incontro ad exitus come storia naturale della malattia vi ringrazio allora intanto che il dottor spada comincia a preparare le sue slide io avrei una domanda da farle cioè voi siete partiti per primi avete un modello molto organizzato ben organizzato state guardando avanti però dobbiamo migliorare sempre però a parte i dati che sono molto interessanti perché ci fanno toccare con mano davvero quanto in realtà si potrebbe fare per le malattie rare con uno screening organizzato ma il vostro modello è esportabile in altre regioni secondo lei? Allora credo che i modelli sono sempre esportabili naturalmente quello che è importante direi sono alcuni elementi uno è che ci siano delle realtà di competenze specifiche oppure di formazione di competenze perché appunto come abbiamo già detto non è l'apparecchiatura l'avere le 24 massa tandem che ci consentono di fare lo screening e soprattutto credo che per avere delle competenze di alta specificità è importante che siano bacini non piccoli cioè che siano bacini come del resto anche nelle linee guida già sottolineato e segnalato Sopra le 30.000 Allora